amici di più tre siamo in diretta io spero che mi sentiate metto subito le cuffie come va con l'audio sentiamo un po' se mi sentite e spero che mi vediate partiamo con la seconda giornata del fantacalcio dei sogni edizione estiva summer edition per il fantacalcio dei sogni che è arrivata la sua sesta edizione io sono Pietro Razzini e come sempre vi ringrazio di essere presenti per questa nostra diretta prima di iniziare in chiacchiere ciao Enzo Bosso sei tu il primo oggi a essere collegato con noi prima di iniziare con la nostra diretta vado con la scelta della giornata che è questa appoggio qua vado a scegliere quelle che sono le partite da farvi vedere ok devo scegliere la giornata giusta intanto vi dico che la prima giornata è andata molto bene ci sono stati allora direi Torino e Milano come due due video da far vedere questa sera ok dicevo giornata molto positiva la prima giornata è stata particolarmente divertente per tutti ho ricevuto tanti feedback da parte degli amici che hanno giocato con noi a al nostro fanta vintage buonasera Terenzio ciao Simone ciao Mattia Blangero grazie di essere con noi per i primi venti minuti perché poi devi andare a lavorare me lo ricordo bene buonasera Maria grazie a Bianchi una delle nostre quote rosa sempre presenti dicevo ieri è andata molto bene come giornata c'è mister eh Chico Disegno che è primo in classifica seguito da una quota rosa la moglie di Gioacchino Catiuscia eccola la seconda la terza anzi quota rosa Valentina Battantuono grazie di essere presente anche tu questa sera con Terenzio che aveva già dato un minuto prima di te la sua presenza la coppia d'oro del nostro fantacalcio dei sogni ho scelto la giornata intanto che aspettiamo logicamente l'arrivo dei dei risultati dei gol di giornata io vi ricordo alcune cose riguardanti sia il torneo che più tre Antonio Venere buon suar buonasera da Cosenza la prima cosa ieri abbiamo iniziato a fare questa novità del gioco a domande eh durante la nostra diretta e vi dico che continueremo per tutte le cinque giornate del fantacalcio dei sogni ci sarà la possibilità di rispondere a delle domande ogni domanda varrà il cinque per cento di sconto sul primo eh sui primi capi che volete vorrete comprare eh a più tre di più tre scusate in nelle varie giornate sarà possibile accumulare un massimo di percentuali di sconto fino al quindici per cento quindi se Terenzio fa il cinque per cento oggi cinque per cento domani e cinque per cento dopo domani potrete quindi riuscire andare a ad avere uno sconto totale del quindici per cento chi durante la singola giornata avrà risposto a più domande giuste avrà sempre in una giornata nella stessa giornata il dieci per cento di sconto ma non è finita qui perché nelle classifiche giornaliere che poi troverete su ehm pianeta Fanta che è il nostro partner tecnologico e che ringraziamo anche questa volta ehm i primi tre di ogni classifica giornaliera avrete la possibilità di avere il venti per cento di sconto sul eh logicamente capi di più tre che andrete a eh comprare io sto già al dieci per cento Enzo Bosso io non me lo ricordo devo essere sincero poi però riguardo perché fate conto che ho segnato già tutto quindi abbiamo alcuni ragazzi che avevano preso il cinque per cento credo proprio di sì tu Enzo Bosso sei già al dieci per cento quindi è la possibilità di indovinare altre risposte quindi di portarti addirittura il quindici per cento ne approfitto intanto visto che abbiamo ancora qualche minuto di tempo per farvi vedere quello che sto indossando anch'io adesso e cioè visto che oggi è piovuto qui a Parma io ne ho approfittato e ho messo la mia felpa più tre abbiamo due tipologie di felpe da mostrarvi e da offrirvi questa che è più invernale la felpa pudi quella con il cappuccio una felpa molto bella molto calda a me piace tantissimo vedete col cappuccio con la scritta più tre e logicamente con le nostre modelle non so se la riconoscete è Benedetta ma mazza che ha fatto diversi reality show sia sulla Rai che su Mediaset all'ultimo è il grande fratello Vip aveva fatto anche la professoressa di Carlo Conti ogni sera su Rai 1 durante il programma appunto condotto da Carlo Conti Pechino Express insomma questo lo conoscete ragazzi sono io che mi leggo la mia gazzetta e che intanto vi mostro vabbè il passò che apprezzerete di più Eleonora Boy giornalista Mediaset sposa del grande campione Danilo Gallinari dell'NBA anche lei ha posato con la nostra felpa e qui ci sono sempre io che mi leggo la gazzetta dello sport per cui lavoro ve la faccio rivedere avanti e dietro bella eh a me piace tantissimo questa felpa e chissà che davvero non riusciate a portarvela a casa con il 15 per cento di sconto o addirittura con il 20 per cento di sconto se siete nei primi tre di ogni singola giornata se andate a vedere su pianeta Fanta nelle varie classifiche che avrete a disposizione c'è quella generale e poi quella della singola giornata ecco se siete nei primi tre avrete la possibilità di avere già un 20 per cento di sconto sui nostri capi vi faccio vedere anche la felpa girocollo molto bella molto fashion unisex perché va benissimo agli uomini ma va benissimo anche alle donne e ve lo mostreremo guardate qui Luca Ovrezzi influencer come indossa con gusto la nostra felpa e questa è la stupenda Sara Baderna una modella che vive a New York e che ho avuto la possibilità di fotografare per fare uno shooting fotografico con le nostre felpe e le nostre magliette guardate come sta bene anche le ragazze se pensate a un regalo da fare alla vostra fidanzata alla vostra moglie alla vostra figlia ecco le felpe più tre secondo me fanno per voi guardate che bella guardate come sta bene ve la davanti molto bello la scritta fluo più tre sulla manica e sul petto il nostro marchio non è finita qui perché abbiamo a disposizione ovviamente per completare anche la tuta il pantalone lungo che vi mostro eccolo qua davanti molto easy e dietro invece la caratteristica di avere sul polpaccio la scritta più tre e in questo caso invece la nostra modella è una fantastica bodybuilder che se andate a cercare su Instagram si chiama roxy89 appena vinto un torneo nazionale fatto a Perugia proprio due giorni fa ed è arrivata a terza un torneo internazionale a Budapest sempre di bodybuilding categoria bikini quindi è il caso insomma di andare a vedere anche il suo profilo Sara Baderna l'avete già vista e conosciuta e questo ragazzo anche da dietro secondo me lo riconoscete però per farvi vedere quanto sta bene l'abbinamento felpa col cappuccio e pantalone lungo qui anche con le nostre magliette va sempre bene vi facciamo vedere anche il particolare sul polpaccio ultimo ma non meno importante è il pantaloncino corto perché perché d'estate ovviamente il pantaloncino corto va di gran moda e allora se fa caldo mettetevi lo shorts fantalega bike più tre qui vi facciamo semplicemente vedere il davanti indietro davanti molto easy dietro ancora con la scritta più tre tutti a vostra disposizione per quest'estate se riuscite a indovinare le risposte a essere tra i primi tre della classifica ehm eh giornaliera avrete dal cinque al dieci al quindici per cento di sconto o addirittura il venti per cento di sconto appunto se siete nella classifica giornaliera ai primi tre posti domani sarà il turno delle magliette che già vedete qua in quadrate e sarà bello anche raccontarvi cosa ci sta dietro a queste magliette vediamo un po' di messaggi che intanto mi sono eh perso raccontandovi quello che era le nostre felpe le nostre tute qualcuno ha una formazione di campioni del mondo Terenzio Carrozzo so bene perché me l'hai già raccontato se non sbaglio è proprio Valentina Batantuono che ha fatto una fantastica formazione di quella che poi sarà la squadra italiana campione del mondo ciao Alberto Bianco grazie di esserci Francesco Cozzolino Enzo Bosso è già col suo dieci per cento di fai il serio Francesco Cozzolino lo so che è difficile per te è bello ragazzi trovarsi e farsi quattro risate in attesa che inizi l'europeo io vi ricordo intanto per questi quattro giorni ore ventuno in diretta per il giorno di venerdì visto che la partita dell'Italia sarà alle ventuno attenzione attenzione si gioca alle diciannove al fantacalcio dei sogni stanno benissimo alle ragazze Valentina Batantuono l'hai detto non puoi che portarti a casa o la felpa o il pantalancino lungo il pantalancino corto di più tre ti aspettiamo Francesco Cozzolino un abbraccio a te e a Enzo che vi giocate e ve la giocate in questo fantacalcio io ce l'ho e beh ci credo io no Valentina forza forza è un bel regalo rispondi bene stasera sconto assicurato ciao ciao Stefano Sibirdis benvenuto benvenuto anche a te anche perché adesso che ci sei anche tu possiamo tranquillamente iniziare perché sono arrivate le eh è arrivato il foglio con tutti i gol di giornata e con le domande io non vedo l'ora di cominciare perché vedo che i gols ci ce ne sono non ce ne sono tantissimi e non sono tantissimi come quelli di ieri però vi dico che i due video che vi farò vedere saranno veramente emozionati buonasera Riccardo Ingrosso ben arrivato anche a te anche tu ieri hai vinto se non ricordo male un percentuale forse il cinque per cento di sconti comunque io inizierei subito 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 con la prima domanda anche perché il nome si presta nel senso che qualcosina di lui ricordo allora attaccante albanese che io ricordo ha giocato nel Verona nella Regina nel Chievo e nel Cesena io queste quattro squadre me le ricordo in questa particolare stagione gioca nel Siena infatti è lui al secondo minuto di gioco della prima partita del sabato ad aver segnato il gol dell'uno a zero per il Siena ragazzi Valentina Battantuono li batte tutti i mastietti e si porta a casa il primo cinque per cento di sconto della serata perché proprio Bogdani Erion Bogdani allora vediamo un po' Valentina ed è segnato il nome di Valentina come primo nome per lo sconto del cinque per cento bravissima Valentina poi è arrivato anche Enzo Posso è arrivato anche Mattia Blangelo è arrivato anche Francesco Pozzolino ma la prima di tutti è stata Valentina Abbatantuono e quindi uno a zero per il Siena gol di Bogdani al secondo minuto contro Lempoli seconda domanda ragazzi pronti con le dita sulla tastiera perché in questo caso questo è più semplice secondo me adesso tra Francesco ed Enzo si inizia a creare questa sfida nella sfida bene bene forza ragazzi dicevo dita sui pulsati dita sulla tastiera perché il prossimo nome che vi faccio è allora mettiamola così è un cognome legato alla natura primo indizio secondo indizio medaglia d'argento agli europei del 2000 con la maglia dell'Italia e vediamo se già qui ci arriviamo e poi vi do un altro suggerimento che è un po' più complicato ma che mi ricordo bene perché quando l'ho intervistato è una cosa che avevo segnato vediamo se qualcuno si ricorda argento all'europeo con l'Italia nel 2000 ragazzi Valentina Abbatantuono vi sta stracciando semplicemente stracciando già la seconda risposta sua corretta è proprio Fiore Valentina e anche Vincenzo Notabuono è andato con Fiore Enzo Bosso è arrivato con Fiore e insomma Valentina li sta stracciando tutti nelle partite di sabato i gol di Bogdani di Fiore regalano il 10 per cento di sconto anzi 5 per cento di sconto adesso a Valentina bisogna capire se alla fine sarà lei ad avere indovinato più risposte di tutti all'interno della giornata in quel caso si becca il 10 per cento di sconto io non so se arrivano direttamente a lei le risposte le domande prima che agli altri perché è stata velocissima anche in questa situazione comunque proseguiamo proseguiamo con i gol della domenica il primo gol della domenica è segnato da qua secondo me c'è un errore vado a vedere immediatamente passo oltre passo oltre mentre voi mentre voi rispondete perché qua secondo me me l'ha me l'ha scritto sbagliato Messina Chievo partita gol dell'uno a zero vado a vedere subito gol 2000 e l'annata la mettiamo qua vediamo un po chi è che aveva segnato in quella partita devo scriverlo meglio secondo me ho sbagliato è stato sbagliato a scrivere perché Messina Chievo ecco qua è infatti e infatti non è di Natale ma è di Napoli ad aver segnato il gol per il Messina perché io mi ricordavo bene che non fosse logicamente di Natale del Napoli quindi cambio ammunizione in casa non è di Natale ma è di Napoli di Napoli al diciassettesimo porta in vantaggio il Messina contro il Chievo quindi Messina uno Chievo zero è giustificato è più che giustificato si fa le cose molto ma molto rapidamente e inevitabilmente non poteva essere che qualche errorino ci scappasse comunque abbiamo risolto immediatamente di Napoli porta in vantaggio il Messina ventunesimo minuto nuova domanda pulsantiera attenzione allora questa è molto complicata questa è veramente complicata ci vuole un intenditore è un difensore io lo ricordo perché giocava nell'Albino Leffe e poi è passato al Palermo e alla Lazio difensore con il vizio del gol difensore centrale pericoloso di testa vediamo se qualcuno è riuscito a indovinare Roberto Giusti saluta intanto Riccardo Ingrosso Roberto Giusti è uno dei ragazzi che ha comprato la nostra no fantastica qua c'è qualche suggerimento dimmi Terenzio se c'entri anche tu perché vi ha grazie a tutti 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 ragazzi ci siete ancora? al gol di via avete ceduto no Francesco Pozzolino ci sono scuola ci sono stati dei piccoli problemi di collegamento spero che adesso mi sentiate e vi vediate vado a giocciarmi più tardi no schermo nero Terenzio sono rientrato adesso chi ha segnato allora faccio il ricapitolo ditemi sei tornato meno male mi spiace c'è stato un problema di connessione non so come mai ci sia stato questo problema però sono tornato da voi la cosa mi dice che forse conviene stringere un po' i tempi vado a ricapitolare Bogdani fiore di Napoli viava fino adesso ok ci siamo tutti benissimo benissimo meno male ancora Valentina che mi sembra che un due tre uno due tre quattro mancano ancora quattro risposte io direi che Valentina il suo dieci per cento se l'è portata a casa oggi da adesso in avanti chiunque risponda anche per secondo dietro Valentina che vi sta battendo tutti si becca al cinque per cento che così aiutiamo un po' tutti comunque andiamo sul gossip perché il prossimo marcatore è il marito di Elena Santarelli chi è il marito di Elena Santarelli attaccante ben piazzato che ha giocato nel Chievo ha giocato nella Lazio chi sarà mai questo attaccante marito di Elena Santarelli showgirl italiana e questa volta arriva Simone Tondi per corrati anche Maria Grazia Bianchi l'ha scritto tutti tutti però il primo nel mio elenco questa volta è Simone Tondi Simone Tondi mi va sul gossip e vince il cinque per cento di sconto Tondi perfetto andiamo avanti classico pareggio Roma Palermo uno a uno gol di Antonio Cassano e poi per gli amici pugliesi non mi ricordo se Terenzio è di Bari o di Lecce e se Valentina è di Lecce o di Bari comunque in gol in Lecce con Vucinic e spero che uno dei due esulti Udinese zero Lecce uno e adesso faccio una piccola pausa e vi faccio vedere il primo video di giornata che è un video che riguarda la Juventus e che quindi piacerà a tanti di voi un video che fa vedere quattro gol della Juventus e quindi godiamoci amici miei i quattro gol che la Juventus rifila al Cagliari in questa giornata di campionato abbassiamo un po' l'audio e raccontiamo quella che è stata la partita tra Cagliari e Juventus Ibraimovici in campo io vado a controllare che il video sia eccolo qua messo in grande Ibraimovici in campo abbiamo detto noi andiamo a guardare che cosa succede Capello che non è convinto ma poi vedrete che alla fine sarà molto convinto della sua squadra bel pallone per tre seghe tre seghe viene eh fermato dal portiere del Cagliari ma sulla respinta interviene Pavel Nedved il gol è di Pavel Nedved non ha segnato ancora nessuno per Francesco Cozzolino vediamo se Pavel Nedved è uno dei suoi giocatori che ha messo in campo oggi in effetti non ci sono stati dei grandissimi nomi oggi è a segno e intanto vediamo Suazzo che cerca di ripareggiare la partita inquadrato però era Langella quindi forse era stato Langella a segnare guardate che cosa fa David Treseguet oggi il nostro amico Mastrofante ha fatto una storia dicendosi indeciso tra Treseguet e non ricordo chi forse Gilardino spero che abbia messo Treseguet perché si vede il gol di Treseguet regalargli tre punti un bel più tre e ancora occasionissima per la Juve Fabio Cannavaro andare a colpire di testa su calcio d'angolo niente da fare Juve sempre sul due a zero occasione insomma se la vogliamo chiamare così per il Cagliari e ancora Langella a impensierirla porta mi sembra difesa da Abbiati perché non era Buffon in porta Nedved se ne va via tra due avversari mette il pallone in mezzo sul secondo pado quello è David Treseguet che prova di incrociare ma il pallone va fuori di pochissimo eccolo David il re David e ancora occasionissima per la Juve assist di Treseguet chi era era Mutu Mutu che ha cercato di trovare il gol del tre a zero non è finita la partita Langella che è più pericoloso dei suoi prova con un raso terra questa volta Abbiati devia in angolo l'angolo seguente occasionissima e deviazione di Abbiati nuovamente in calcio d'angolo risposta della Juve Ibrahimovic dalla lunga distanza parata tranquilla senza grandi patemi Ibrahimovic non è soddisfatto Budel immagino nella ripresa perché di solito quando ci sono questo tipo di inquadratore guardate come va via Ibrahimovic al difensore altra occasione Ibrahimovic controlla si accentra tiro parata pallone che arriva sul piede di Treseguet ma non riesce a controllare la sfera Nedved per Ibrahimovic Ibrahimovic velo di Treseguet palla per Nedved ancora per Treseguet e gol del tre a zero bellissima la rete orchestrata da Ibrahimovic assist di Nedved e gol di Treseguet doppietta per lui quindi amici che avete messo Treseguet dovete solo esultare infatti Terenzio Carrozzo è contenta Fina è contento Bucinic in panchina e poi ancora sto Treseguet mannaggia a me che non l'ho messo mannaggia Riccardo Ingrosso e ha fatto quattro gol in due giornate del fantacalcio dei sogni andiamo avanti c'è ancora qualche azione da vedere sempre della Juventus accelerazione mi sembra occasionissima ancora per Treseguet palla che finisce sul palo e poi autogol segnato perché non l'avrei mai riconosciuto autogol di Vignati al sessantottesimo minuto eh Treseguet poteva fare una droppietta ma manda il pallone sul palo e poi ci pensa Vignati a metterla nella propria rete entra in campo Del Piero che non era in campo all'inizio perché c'erano Ibrahimovic e Treseguet recupera un pallone ma non ne fa granché in quadratura per Del Piero che chiude la partita sul quattro a zero per la Juventus contro il Cagliari ribadisco doppietta di Treseguet che farà felice tanti fantallenatori Federico di eccolo Federico Chico Disegni che è il primo in classifica in questa prima giornata di campionato e si merita insomma la standing ovation vediamo se riuscirà a mantenere il primo posto anche nella seconda giornata di fantacalcio dei sogni io adesso oggi che ho messo Del Piero non parte titolare beh magari ti entra Riccardo Ingrosso qualcuno che è in panchina e che ha segnato avevi scritto qualcosa del genere immagino prima solo partite con doppiette di Treseguet pescate Francesco Cozzolino due giornate due doppiette di Treseguet ieri doppietta anche di Recoba e doppietta anche di Shevchenko erano queste le doppiette segnate ieri comunque arriviamo al quarantacinquesimo e due minuti di recupero quindi quarantasettesimo minuto Messina due Chievo zero in gol attenzione allora questa è dura nel senso che anch'io non so più di tanto come raccontarvelo però ci proviamo ha lo stesso nome del giocatore Montolivo era un attaccante ovviamente del Messina famoso per le sue rovesciate e io ricordo perfettamente perché ero lo stadio a vederla il derby tra Atalanta e Brescia segnato da una sua rovesciata ed è proprio Zampagna bravo Simone Tondi che attenzione ritorni in corsa per andare a vincere a battere Valentina nel premio del dieci per cento Giovanni Di Dario anche lui bravissimo ingresso a Riccardo bravo anche tu Francesco Cozzolino l'ha indovinato Federico Chico disegni non l'ha sbagliata neppure lui ma il più veloce di tutti questa volta è stato Simone Tondi oggi dominio di Valentina e di Simone nel rispondere velocemente per adesso siamo tre risposte per Valentina due per Simone e abbiamo ancora la bellezza di due risposte da dare proseguo abbiamo passiamo allora Lecce che va in gol ancora con Vucinic quindi due a zero contro l'Udinese al cinquantasettesimo un minuto dopo gol del Livorno con De Ascentis sono gol non interessantissimi però immagino che qualcuno Vucinic ce l'abbia in campo o in panchina sperando che magari qualche titolare sia ehm non abbia giocato titolare all'interno della giornata di campionato in corso ehm sia ok siamo all'altra domanda questa è complicata questa è veramente complicata allora sessantesimo minuto capitano ed esterno sinistro dell'Ascoli offensivo eh nel senso laterale sinistro numero undici di vecchia manetta capitano esterno sinistro il suo cognome me la gioco così era il nome di un leader politico di alleanza nazionale era il cognome di un leader politico di alleanza nazionale no Valentina è sbagliato ehm e io credo perché vado memoria ci sia anche una pasta asciutta che è una pasta asciutta un marchio di un'azienda italiana che fa pasta asciutta e sughi bravi bravi ce l'avete bravi ce l'avete fatta grandissimi Giovanni Di Dario questo 5% te lo meriti tu Giovanni Di Dario ragazzi io vi chiedo una cortesia poi scrivetemi su Facebook o su Instagram e datemi i vostri contatti nel senso il vostro contatto Facebook e Instagram così vi posso mandare tranquillamente quella che è il marchio il buono del 5% del 10% a seconda di quello che vincete comunque questa volta Valentina è stata la più veloce ma non l'ha detto giusto invece Giovanni Di Dario è stato il secondo più veloce e l'ha detto giusto brava anche Francesco Cozzolino scusatemi Federico Chico Disegni l'ha indovinata anche questa volta e Simone Tondi corto punto di domanda però l'aveva detto giusto quindi a questo punto Giovanni si becca sul 5% Simone può raggiungere Valentina e se raggiunge Valentina do 2 10% e Valentina comunque ormai se l'è guadagnato perché rimane una risposta che questa volta secondo me è facile perché ho visto i nomi che rimangono e ve la faccio facile Livorno Lazio aveva segnato prima De Ascentis adesso invece risponde Pandev che sarà protagonista con la sua Macedonia anche a questi europei lo faccio su questo? Ok lo faccio su questo. Altra perché a me è risultato primo e a te no? È successo ieri anche con Virdis con Zio Liga io non lo so come mai in certe situazioni va a finire che viene messo prima un io devo fare affidamento a quello che vedo sul mio schermo perché altrimenti dopo diventa veramente difficile dare una volta lo schermo di uno una volta lo schermo dell'altro io fidatevi di me non ho nessun vantaggio a dare il 5% uno al 5% l'altro fidatevi che l'elenco che vedo io è quello che teniamo teniamo buono comunque pronti attenzione tutti e mi raccomando il prossimo nome il prossimo cognome vediamo se voi sapete come si chiama di cognome Costanza la moglie di Cristian Vieri se indovinate il cognome di Costanza la moglie di Cristian Vieri riuscite a scoprire il nome dell'attaccante in gioco altrimenti vi do un altro indizio che capite al volo Giovanni di Dario è il suo momento è il suo momento perché arriva è arrivato prima lui sì prima Giovanni poi Mattia Blangero poi Valentina Batantuono poi Simone Tundi poi Enzo Bosso Riccardo Ingrosso e Francesco Cozzolino arrivano tutti ma il primo ad arrivare ancora Giovanni di Dario quindi Giovanni oggi distribuiamo solo a tre persone Giovanni di Dario ma sono tre persone che hanno fatto dei bei delle belle risposte primi in assoluto e meritevole del 10 per cento di sconto Valentina Batantuono a seguire 5 per cento di sconto per Simone Tondi e per Giovanni di Dario ecco i vincitori di questa giornata andiamo avanti perché ci sono ancora dei gol e poi vi devo far vedere una bellissima partita una bellissima partita sulle tondelle stiamo stranamente preparati è giusto anni e anni di televisione di alto livello ci metto dentro anch'io fanno questo effetto comunque settantanovesimo autogol di Peruzzi ragazzi spero che nessuno di voi abbia il portiere della razza perché questa volta andate a prendervi un autogol e di conseguenza Livorno Lazio due a uno e ancora Bonazzoli per la Sampdoria Parma Sampdoria uno a uno Paredes Lascoli reggina quindi gol della reggina eh uno a uno e chiusura questa volta sì con Antonio Totò di Natale Udinese Lecce uno a due e di conseguenza Lecce va a vincere cari amici pugliesi che ci state seguendo Lecce vittorioso in questa giornata di fantacalcio ma la giornata non è finita qui perché vi devo far vedere ancora una partita bellissima e la partita bellissima è avete immagino immagino che abbiate capito perché mancano solo queste due giornate queste due partite due squadre per riuscire a terminare la giornata è il derby della Madunina Inter Milan partidissima avete già visto il risultato saranno cinque gol da goderci tutti insieme io adesso metto lo schermo al massimo e facciamo partire la diretta di questa anche un po' di ferita obiettivamente di questo bellissimo derby e andiamo a vedere subito l'Inter in avanti cross dalla destra pallone sulla testa di Mar di Marte di Martins scusate di Martins ma palla che viene gestita come un difensore Martins ancora lui pallone messo in mezzo Adriano che anticipa Calazze pallone sul sinistro ma palla che finisce alle stelle si vede il Milan Sedorf per Shevchenko ma grandissimo l'intervisto di un difensore dell'Inter possibile Favalli possibile la posizione poteva essere quella cross ancora dalla sinistra di Favalli e colpo di testa di Martins Martins per Adriano ancora per Martins che si infila tra due difensori del Milan che cosa vede l'arbitro vede un rigore per l'Inter batte Adriano spiazza Dida ma c'era questo rigore comunque Inter in vantaggio a San Siro contro il Milan derby secondo me si invia continuamente la risposta a state parlando ok ok noi andiamo avanti a vederci questo derby dalle mille emozioni occasione per il Milan spazzata dalla difesa dell'Inter angolo per l'Inter Dida coi pugni anticipa gli attaccanti dell'Inter ma niente da fare neanche per Stankovic che ci prova dall'interno dell'area piccola figo se ne va via in maniera elegantissima prova col sinistro ma il suo sinistro fa fuori di poco Gilardino salta Cordoba e si guadagna una punizione punizione battuta ovviamente da Pirlo che succede l'arbitro vede un tocco di mano vede un tocco di mano andiamo a rivedere anche noi cambiasso Stankovic Stankovic batte benissimo Shevchenko che porta il derby sull'uno a uno Shevchenko che rispondi mi rispondi e Amelia era titolare non te lo so dire dopo controlliamo e Valentina intanto fallo di Calazze su Adriano Mancini infuriato molto probabilmente voleva un'ammunizione forse anche legita finisce il primo tempo Sheva mi salva sempre dice Riccardo Ingrosso Sheva segna sempre era il segna sempre lui e ragazzi invece che gli cantavano la canzone ai tifosi comunque ancora Milan Gilardino va via benissimo pallone per Sheva che di destro cerca di ritirare sulla porta dell'interma niente da fare esce genesta entra Simic Dario Isimic ex di turno Argentina e Brasile Kakà e Verón botte da Orbi ma nessun intervento dell'arbitro punizione del Milan sembra Serginio infatti è Serginio Adriano risponde Dida malissimo e arriva Martins Martins al cinquantanovesimo riporta in vantaggio l'Inter guardate la tipica risultanza di Oba Oba Martins bellissimo chi ha messo Martins in campo o chi ha messo Adriano in campo nessuno di voi ha questi due giocatori vediamo come risponde il Milan con Kakà deviazione di Cordova e palla sulla traversa Milan che continua a perdere due a uno ma non finisce la partita entra Ianculoschi per Gattuso Kakà imbucata bellissima sulla sinistra Serginio cerca l'anticipo e forse ce la fa anche Gilardino esce dal campo ed entra Bobo Vieri i miei tre attaccanti in panchina hanno segnato Terenzio Carrozzo spero che nessuno dei titolari allora giochi in modo tale che fai quei dai Kakà potevi farmi sto gol entra Bordiscio esce figo Inter sempre in vantaggio uno zero Mancini cerca di proteggersi ma è troppo presto perché già Stam all'ottantatraesimo pareggia la partita è andato in cielo a prendere questo pallone e Stam riesce a pareggiare il derby di Milano allo stadio Meazza nel quartiere di San Siro entra Cruz per il forcing finale palla lunga per Adriano solo davanti al portiere cerca l'anticipo su vita ma il pallone esce e non di poco questa volta Mancini sconsolato ultima occasione del match palla messa in mezzo colpo di testa di Adriano l'imperatore che regala il gol della vittoria all'Inter in un derby dalle mille emozioni eccolo lo riguardiamo pallone che entra in rete e Adriano che esulta e porta all'Inter questo derby tre a due il finale mamma mia che giocatore che era già Stam veramente infermabile cioè anzi mi fermava tutte lui a dire la verità quindi grandissimo difensore veramente grandissimo difensore forte di testa veloce rapido scatto bruciante nonostante la massa muscolare veramente elevata Federico Chico Disegni ti dice Adriano in panchina il che potrebbe voler dire che rischia il primato in classifica se i suoi titolari giocano tutti bella Terenzio Carrozzo che dice che i suoi tre attaccanti i tre attaccanti che hanno segnato per lui li ha messi tutti in panchina amici miei siamo arrivati alla fine di questa seconda giornata del fantacalcio dei sogni che dire abbiamo visto un sacco di gol abbiamo dato diversi regali a tutti voi cinque dieci per cento di sconto per i nostri prodotti più tre sfruttateli mi raccomando perché è già dovete sfruttare l'occasione insomma che vi diamo chiedo ai ragazzi Valentina Simone e Giovanni di mandarmi o su Messenger o per favore su direct su Instagram il loro contatto in modo tale che possiamo mandargli il il segnale insomma del cinque dieci per cento buona serata a tutti un abbraccio particolare alle quote rosa grazie di essere stati con noi adesso volo su pianeta fanta e sistemo quello che serve per poi farvi vedere le classifiche corrette a domani sempre alle 21 e 30 sempre su facebook di più tre e mi raccomando amici miei forza più tre ciao ciao Federico ciao Terenzio ciao Valentina ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti